Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Facciamo un piccolo tutorial sul nuovo sistema di crafting di Diablo 4, che non investe solamente la nuova stagione, la stagione 4, ma in realtà cambia tutto il gioco alla sua radice. Quando andrete dal vostro fabbro di fiducia adesso vedrete che ci saranno delle opzioni diverse. Infatti sì, potremmo distruggere di nuovo gli oggetti per non solo a questo punto avere sempre i materiali indietro, ma anche per estrarre gli aspetti leggendari. E se notate alcuni oggetti, quando siete in questa finestra del reciclo, hanno un simbolino accanto all'icona dell'oggetto. Questo vuol dire che se reciclate quell'oggetto migliora l'aspetto leggendario che va a finire adesso nel codex. Quindi se adesso noi distruggiamo questo oggetto, a caso, ci spunta sopra. Aspetto del lago infuocato è stato potenziato nel codex del potere, ok? E ovviamente sotto ci dà anche i materiali riciclati. Quindi adesso in Diablo 4 distruggeremo in realtà la stragrande maggioranza degli oggetti. Terremo estremamente solamente quello che ci serve. Inoltre, come avrete notato, tutti i leggendari adesso hanno solamente tre affissi e i rari solamente due affissi gialli. Infatti i rari praticamente dopo le prime 20 livelli, 30 livelli, sono praticamente inutili e vanno distrutti senza pensarci minimamente, giusto per avere materiali per crafting. Mentre i leggendari che hanno tre affissi e ogni tanto spunta anche un affisso con la stellina che è molto molto importante, perché questo affisso è 50% in più sempre fisso rispetto al massimo rollo e questo ci servirà come loot filter, tra virgolette, a endgame finale oltre il centro. Perché ovviamente terremo solamente a quel punto gli oggetti che hanno almeno una stellina. Possono avere anche due o addirittura tre stelline e possono essere le stelline anche sui oggetti unici. Quindi alla fine poi terremo solamente oggetti stellina perché saranno i migliori. Ma come detto i leggendari hanno solamente tre affissi. Questo vuol dire che è molto più facile trovare oggetti ideali per la propria build, perché uno di questi tre lo possiamo sempre rerollare dall'occultista, questo non è cambiato, quindi in realtà ci servono solamente due affissi giusti per la nostra build e già quell'oggetto è papabile buono per il crafting. Tutta questa premessa per poi arrivare ovviamente alla tempra, ok? Questo è il sistema nuovo insieme poi anche alla rifinitura, ma la rifinitura la potete sbloccare solamente verso la fine del gioco e la sbloccate dopo che avete battuto un Nightmare Dungeon, mi sembra livello 46 o 45 o comunque quelli con i nemici livello 100. Solo in quel momento legato alla fossa, che è un'attività endgame finale del gioco che hanno aggiunto, in quel caso solamente poi potrete fare la rifinitura. Ma prima ancora abbiamo la tempra. La tempra è disponibile praticamente da subito, quindi avete visto che non c'è più quella tab in cui si poteva potenziare cinque volte un oggetto, semplicemente alzandogli tutte le statistiche, che è un po' per certi versi quello che farà la rifinitura alla fine, solo con 12 potenziamenti. Però ora abbiamo la tempra e la tempra va a completare il nostro oggetto, quindi tipicamente noi useremo la tempra solamente per gli oggetti leggendari, per aggiungere ai tre affissi che hanno altri due affissi. Infatti vedete che c'è un simbolo diverso su, per esempio, questo globo che ho temprato, perché due di quegli affissi hanno il simbolo della incudine, ok? Quindi vuol dire che io li ho aggiunti io. E per esempio c'è un altro simbolino, che è quello blu invece classico, vuol dire che ho rerollato risorse massime nel mio oggetto. Quindi capite, per esempio, questo è un oggetto molto modificato dal crafting. Ci sono due affissi aggiunti da me, più uno rerollato. Alla fine mi interessava che avesse buoni solamente due affissi base. Ma come funziona il tempering? È molto semplice. Noi prendiamo un oggetto qualsiasi, lo mettiamo qua dentro, e il gioco ci dà delle opzioni. Queste opzioni di possibili ricette da utilizzare arrivano appunto, le abbiamo anche qui sotto codex del potere nuovo, ricette di tempra. Qua c'è tutto l'elenco di quello che noi abbiamo. Ovviamente se avete iniziato adesso questa stagione 4 comunque da poco, questa nuova patch, non avrete neanche un manuale, dovete andarli a trovare. Ma banalmente si trovano in giro per la mappa. Qualsiasi attività fate, aprite casse, fate dungeon, fate la marea infernale magari, che è molto molto bella in questo momento perché ha tantissimi eventi diversi ed è molto buona, molto dense di nemici e anche divertente. Ecco, trovate man mano che salite di livello i vari manuali. Questi manuali semplicemente ci danno delle opzioni variegate a seconda della tipologia, a seconda anche del pezzo di armor, per aggiungere eventualmente degli affissi con della randomicità. Quindi tornati qui col nostro oggetto messo qui dentro, ci dà delle opzioni. Armi o offensivi? Queste sono due tipologie di affissi che noi abbiamo con i manuali. Noi a quel punto scegliamo qualcosa di quello che ci interessa e cerchiamo ovviamente di beccare poi la randomicità. Perché per esempio se io qua scelgo rigore della piromanzia, perché magari la mia build è sul fuoco, e magari io vorrei prendere, non so, danni da fuoco, comunque ho una possibilità qua su 5. Quindi non è detto che esca per forza danni da fuoco. Ma comunque, anche se escono altre cose, in teoria sono comunque attinenti a quella build. Noi possiamo appunto fare una tempra di due affissi che devono essere necessariamente diversi. Quindi non possiamo mettere due affissi offensivi o due affissi di armi. Tra l'altro hanno aggiunto, per esempio, questa cosa nuovissima di un corpo fortunato che fa un tot di danno al 40% di possibilità, ok? Non possiamo mettere due della stessa tipologia. Dovono essere per forza diversi. Ma quanti tentativi abbiamo? Allora, dipende dalla rarità dell'oggetto. Arrivati verso la fine del gioco con gli ancestrali. Se guardate in basso, c'è scritto qua, tempra 5 su 5. Quindi noi abbiamo 5 tentativi, ma in realtà sono 7. Perché quando noi facciamo il primo imprinting, non viene contato, ok? Quindi i primi due imprinting, uno per parte, sono, tra virgolette, gratis. Quel 5 su 5 vuol dire 5 refresh, 5 reroll, 5 riprovare. Se dopo questi 5 finiamo tutti i tentativi e non ci piace come è uscito l'oggetto, e niente, praticamente l'abbiamo, come si suol dire, briccato, l'abbiamo rovinato e dobbiamo cercarne un altro. Perché magari, appunto, non sono entrati esattamente gli affissi che volevamo noi, oppure noi magari volevamo un roll comunque più alto. Però non vi preoccupate perché, come detto prima, dato che adesso i leggendari comunque hanno solamente tre affissi base e hanno ridotto il numero di affissi generalmente, è molto semplice, l'ho trovato veramente molto semplice, trovare un oggetto papabile sia per la tempra, sia eventualmente per il reroll di una statistica dall'occultista. Perché alla fine ci servono veramente due affissi buoni su tre iniziali e poi uno lo rerolliamo eventualmente e due proviamo ad aggiungerli. In questo modo è veramente abbastanza semplice impostare una build. Anche se poi non c'entrano esattamente le tempere che volevamo, possiamo comunque creare degli oggetti molto molto buoni e competitivi. Poi ovviamente dopo il 100 vorremmo la perfezione e sarà più complicato per raffinare tutto perché magari vogliamo arrivare al livello alto della fossa come tier e quindi ci serve la perfezione. Però in generale è abbastanza semplice impostare una build anche in fase di leveling. E anche in fase di leveling, almeno per quello che ho visto io in questa stagione 4, si hanno così tanti materiali, soprattutto rompendo costantemente tutto, che si può fare anche un po' di tempering anche durante il leveling. Non è molto necessario secondo me, però si può fare, non costa tantissimo. Per quanto invece riguarda la rifinitura, in questo momento non posso farvi vedere molto perché ho fatto letteralmente un solo giro nella fossa, quindi ho pochissimi materiali. Forse posso fare una volta sola una rifinitura. Per esempio prendendo un oggetto unico, un bel cerchio ridiescente di tarrascia, potrei fare un potenziamento. Questo invece a quanto pare è molto costoso a livello di gold, nel senso che dato che vi servirà farlo più e più volte e il costo aumenta di tanto, quindi oltre ai materiali serve un bel po' di gold. Qua ovviamente dovete aver sbloccato la possibilità di fare rifinitura e quello che farà semplicemente sarà aumentare tutti gli affissi del 5%, solo che al quarto tentativo, al grado 4, ci sarà una sorta di critico che andrà a beccare uno degli affissi dell'oggetto, non ovviamente il potere leggendario, solamente gli affissi. In quel caso lo potenzierà ulteriormente ben più del 5%, mi sembra del 20%, spero di non sbagliare. E questo quindi accadrà tre volte, perché possiamo potenziare con la rifinitura 12 volte l'oggetto, quindi possiamo avere tre critici su tre affissi diversi e si può avere anche, volendo, il critico anche sullo stesso affisso più volte. Quindi anche qui è una cosa appunto di super minimaxing, perché eventualmente qui c'è anche la possibilità di ripristinare i gradi di rifinitura, vuol dire resettare l'oggetto a livello di rifinitura e ricomincerà da capo il processo. Ovviamente avremo perso tutti i materiali, soldi, spesi. Questo si fa proprio per il super minimaxing, perché magari vogliamo che esattamente un affisso venga colpito più volte, magari da un critico, perché è magari proprio cruciale per la build. In questo caso serviranno materiali abbastanza comuni, come il ferro e i cristalli opachi, e poi ci vorranno i materiali che però arrivano dalla fossa. Quindi bisognerà fare la fossa per avere questi materiali e per poter continuare a fare rifinitura sugli oggetti. E quindi fondamentalmente questo adesso è il crafting di Diablo 4, quindi abbiamo sempre un affisso da rerollare dell'occultista pagando gold, e poi abbiamo in particolare la tempra, che ci permette da subito di indirizzare un oggetto rispetto alle nostre necessità. E poi infine a endgame abbiamo anche la rifinitura, che ci costa parecchi materiali e ci costa ovviamente fare la fossa, però possiamo potenziare ulteriormente tutti gli affissi di un oggetto. Come ultima cosa vi faccio notare che si possono avere anche affissi doppi. Per esempio qua, se vedete, questo corpetto aveva vita massima, anzi ho rerollato per avere vita massima tra gli affissi diciamo base dell'oggetto, ma poi io ho anche ficcato un'altra volta vita massima. Perché? Perché il corpetto, le gambe e la testa possono avere difesa e tra le scelte di difesa c'è vigore mondano e in vigore mondano abbiamo tre opzioni che possono uscire, vita massima, armatura totale e probabilità di schivata. Quindi si può avere anche un doppio affisso uguale tra quelli base e quelli aggiunti con la tempra dello stesso, per esempio appunto vita massima, che secondo me molti metteranno doppia dove possono. E questo è quanto ragazzi, spero di essere stato chiaro e esauriente. Se avete le domande comunque scrivetelo sotto nei commenti. In generale comunque mi sembra che il sistema di crafting, che prima era praticamente inesistente, c'era solamente quell'aumento di 5 stelline brainless dell'oggetto più il reroll di una statistica dello QT, se adesso è molto molto più carino. Perché adesso potete veramente indirizzare i vari oggetti abbastanza velocemente, esattamente verso una build che volete voi. Ovviamente questo si aggiunge alla possibilità di avere un codex che ormai ha tutti gli aspetti legendari del gioco e che li aggiorna quando voi rompete gli oggetti e quindi potete anche avere roll massimi sempre a disposizione da inserire. Quindi insomma è proprio un altro gioco a livello di crafting adesso di Ablo 4. Va bene ragazzi, ho concluso. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione e per il supporto sempre. Statemi bene come sempre e alla prossima. Ciao ciao! Ciao!